se volete ancora bene noi altri giocheremo ogni martedì sera lo stesso e tutto quanto sarà bellissimo ugualmente ok basta gra grazie che mi avete delucidato su questa cosa prego che ho appena detto io popi mai quanto tranquilla riuscirò a fare zero di nuovo ma mi mancava axel e no niente lo supera che spiega a noi di troia impostati un po la cam che non si vedono i punteggi si il mio gioco preferito per qualche motivo è super intimato questa questa domanda io sono questo a destra e ma c'ho baldur's gate buff cioè sono tutto presa bene a ok non è manco iniziato il minigioco ha già perso vita era perché non mi guardavo te davvero un giocatore è differente hai visto che abbassa bello momento l'all player dango il difference tanto nel senso quello dire anche più alto shimmy clown rank più alto di non aver mai toccato l'erba dice alla vera così eccoci aia o pelo non ho mai visto un essere umano non su uno schermo crescono di scala a siamo troppo forte sul gioco la mia impressione comunque oggi siamo svegliati tutti cento per cento io non parlo perché sono concentrato al fotonico tipo io mi complico le cose io non mi dico basta spalto ti può saltare al centro però se saltireva no fu b poi hai smesso di dormire in maniera sensata sono diventato pippo per un attimo il gaming ma siamo troppo forti raga troppo troppo forti noi e finché un vi are differente e invece sono ieri su come si chiama tentiamo di spiare chi è che è il più davvero male senza di te però sentivo che è vero anch'io di spiare vi manca quello scarso tranquillo perché cosa volete da me no ok carambola mi piacevate eravate lì ma pensate adesso ti ridò delle chiavi adesso ti ridò delle chiappe ha scelto la morte la violenza ferrofrozzo utilizzo le cose allora ho cambiato il medikit utilizzo il medico usa ma che è uscito l'avete visto a che bello ho preso un cacto è il mio momento perché sono l'ultima popi la penultima in realtà perché c'è anche zergantis che non sono io l'ultimo sono io l'ultimo ragazzi ma chi sarebbe zergare ragazzi zergatis e zergatis perché come mi viene in mente di chiedere chi sia esatto quello che mi ha risposto fermi attenzione hai preso il messino è un rocchetto nooo lo spingo spingo in un posto specifico merdone ragazzi dove sono io io sono in alto a sinistra oddio io non so chi sono dai mi dite cosa cosa devo fare non devo fare devi fare una torre fino in cima ah io sto facendo proprio l'opposto eh lo so che ti viene a fare il tetris invece devi fare la torre eh ok benissimo oggi sono veramente ho fatto un cazzo ho diventato un kpop fan ragazzi un disastro oddio mi dispiace condoglianza no adesso hai reazioni quando qualcuno mi dice che è diventato un kpop fan finisce tato totato ho fatto il gaming minchia l'hai compiuto veramente si mi sono messo proprio l'asciugamano in testa eh si è visto ah vabbè dai cazzo io mi devo recuperare le storie di tot minchia perché quali storie ma ultimo di nuovo eh non lo so ho visto una che eri in ritardo dalla psica però ho detto cazzo qua sembra esserci del tea eh no 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 sono solo io che ballo beauty and the beat di Justin Bieber e Nicki Minaj che figata di canzone ma sai che è tipo una delle più belle che tipo mi piace a me piace non ironicamente parlando ecco a me piace tu non ironicamente parlando è proprio bella cioè anche perché io tra l'altro vengo dalla come si dice dalla generazione tossica nella quale tipo Justin Bieber era diventato famosissimo quando io andavo al liceo e quindi tipo tutti quanti lo individiavamo perché dalla raga I guess e quindi poi ho detto tipo da grande da adulto da metallaro e tu senti ma io sto cazzo di Justin Bieber non è che tipo mi sia mai stato sul cazzo sul serio me l'ho detto che lo dovevo detestare e quindi praticamente poi ho visto sto video ma era proprio bello cazzo mi è piaciuto un sacco la canzone eh quello è stato un reset culturale quando è uscito quel video vabbè però vaffanculo eh io non ci voglio lì tra l'altro ho anche scoperto Nicki Minaj che non la conoscevo Nicki Minaj just ragazzi è arrivato il momento no no non il culo è nel culo è nel culo gli ultimi saranno i primi oddio che culo dato che io ero che va e niente hai 36 sono riatterrato bella raga vede gli ultimi saranno i primi ragazzi attenzione ma di uno non è raga credibile dopo una vita a far schifo qualcosa dovevi risolvere ho visto mamma mia come lo stregone che manco gli incantesi mi impara credo proprio che dovrò tirarti delle cose nella schiena per vendicarmi di questa cosa che mi hai rubato è ma è giusto lo accetto è giusto me l'hanno tolto rubato rubato sborramento di proietti questo è nuovo? no c'è da sempre salto e doppio salto c'è anche giolo si vince si vede solo tre vite ok vabbè ho perso io ho perso perché ero alttambato per qualche motivo io non sapevo si potesse double jumpare eh manco io io ho perso perché sono stato fermo mezz'ora e mi si era tolto alla cuffia che palle tempismo di merda ok 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 nooo gg axel ho fatto niente oddio facile terzo ma se ho fatto tipo turbo cagare con i broccoli ma questa è un'altra storia oh bertram ma a me non sembra il caso sei veramente un figlio di puttana ma tua madre te l'ha detto che ti ha adottato ho fatto un favore testa di cazzo eri in un bidone dalla spazzatura ti ho fatto un favore coglione le chiavi più avanti sei andato stupido coglione il pisello cazzo di merda non c'ho vita non c'ho soldi c'ho vita ma questa strada è morte assicurata è un po' no no perché quelli là in mezzo ah si per te si certo che hai fatto 5 era seguro signor devo fare almeno 4 zerga tira tiralo su berro il coglione ma perché cosa vuoi da berro non fate nulla non c'è arriva non ho tirato un oggetto non ho preso una cazzo non ho fatto un cazzo ma non c'è arriva c'è arriva c'è arriva ma se lo tiro così non prende nessuno secondo me si si pigli axel almeno bertram ti assumi questa responsabilità perché mi devi cocare il cazzo le traite fuori dal cerchio zerga non è vero non è vero non è vero non è vero prendo anche appena no no mi duele a metterlo ma hai ragione mamma mia axel non hai turnupinato fortissimo ti voglio dire ho dato un persuasione 20 porca troia mamma mia axel ok no è vero non c'è arriva cazzo la parte non c'è arrivato però ricordate che mi hai persuaso berro ha deciso la morte ma almeno mi avvicino di più alle cose ahia è arrivata una ruota il tuo corpo si avvicina di più alle cose lo spirito insomma è totta andrà a parte di te è tutto questo totta ah c'è eccola no niente io ci sono ci sono totta stava ballando non so perché potrei aver messo beauty and a bit di sottofondo a vengeance evenfall no a beast and the heirloat beast and the heirloat era a vengeance evenfall ho sbagliato titolo scusate ah no non avevo la mia idea di cosa ti stai riferendo tanto questo gioco si riassume la parola sesso più o meno vabbè mi dis però ho bisogno di chiave oh niente a caso una chiave chiudi omicidio motorio oddio accelera accelera i vertici ah ok è ma perché state tutti cantando a caso car armati per portare content oddio è difficilissimo da qui ma come si spara con il tasto dello sparo e io non posso sparare non fa non fa da buon ah ma vaffanculo grazie ma donna ma che cazzo di armi avevate vado can you feel the rush oh oddio ti rende in giro bene non ho finito le moon no o forse si è così caotico oh tot no si gode la musica trappata bellissimo ho provato il dribblage assassino eh ti ho provato eh no pezzo di cazzo scliccio berganti devi ne partita la minchia però eh che devo fare sei lì in mezzo morì totta che succede ma era immobile madonna Axel tossico preferisco che mi prenda azergantis piuttosto che a merda no bravo vaffanculo no Axel betraia questo è il kpop è proprio il kpop ma no sono respawnato in mezzo alla merda no zergursbizg eh dai zergursbizg ancora è la danza della guerra mi passerò fuori stacca no scoppa andava a kill quindi ho fatto scoppa no 10 punti in meno t'ha dato il razzo no me lo sento me lo sento già nel colon è la vita è la vita comunque te lo meriti voglio dire non è che eh ma no così te lo avrei detto ma conoscendolo guarda e invece no melanzana e dove basta melanzanona eh dove va oh no oh no axel si sta facendo dei nemici comunque oh cazzo no l'unico in cui non sono nemico attualmente è zerg che bello però zerg ha provato a tentare la mia vita ma mi spiega perché dovessi essere nemico con me non è vero ah oh cazzo io a te non ho ancora fatto niente axel oggi dovessi essere nemico con me scusami eh zerguntis che ci sta mettendo le palle nel culo e non è vero che ci ha lanciato la melanzana ma basta cioè ma non l'ho lanciato ad axel nulla ho letteralmente solo badellato beauty and the beat in silenzio non sei alluata a vivere della felicità tot sono semplicemente donna ma le chiavi ho tiragli la roba tiragli il cazzo di ora lo devo fare mi dispiace ma adesso lo devo fare i'm sorry ok zergat secondo me non è sorry manco per un cazzo ti sei fatto due nemici potenti axel e da quando giochiamo assieme che tu mi fai fuori in qualunque gioco ah io questo giro ti ho risparmiato eh questo giro si vabbè per ti sei reso conto ma porco due allora io non ha senso che vada di lì non ce l'avrò mai le chiavi eh no cazzo non hai porto due chiavi oh 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 vengo demone ma c'ha il culo sfondato sto tizio ma com'è bello per lui no chiavi hai l'instakill bene 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 wow dammi un altro medic che giochi ci siamo ma vaffanculo vabbè tanto wow ora piace bella ragia niente siamo tutti quanti affezionati a questa cosa ciao berro buongiorno quanti punti vi t'hai sburtra? guarda sei veramente se lo fai sei un pezzo di merda perché non ha senso non ho abbastanza chiavi vabbè sei proprio all'edà ho anche un coglione ho aiutato Axel infatti perché? ma era divertente vabbè sei un coglione vabbè non è quello il punto adesso Axel può prendere due casse di fila guarda spero la piglia Axel può essere che la piglia Axel adesso non lo può essere lo spero proprio dal profondo bastardo io mi sono solo vendicato per la melanzana non è che devi farlo una questione personale ora appena appena avrò è venato la come si chiama la bilancia dello sudrogo del destino ti è vero il buco del culo guarda vabbè niente allora oddio oddio le palle questo si l'ho già fatto si si ciao ciao Fefi buonanotte a chi va ragazzi ah merda magari mi avevate anche detto facciamo la live insieme io non vi ho caccato perché sono stupida vabbè basta non voglio giocare questo gioco ragazzi ti sei suicidata? non ho interesse nel giocare a questo gioco basta ma 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 a Pummel Party o a questo minigioco? sicuramente questo minigioco non sta giocando non riesco a fare nessun game muoio non gioco mi crepate cioè bello c'era peggio della live di Among Us ieri sera cazzo dai ieri sera è stato notevole sono due serie di fila che non faccio nulla stavo per fare un complimento a Berlum è morto davanti si l'ho presa male mi siedo qua dietro ah te ne stai proprio andando dalla questa mamma mia Axel diventato pippo noia no non c'è che noia stasera Axel no peccato innamorato di quella donna allora godo perché adesso si piglia la cassa al posto di Berlum non è mai stato riguardo alle casse è stato semplicemente per nooo io non volevo toccarlo ho contato apposta ah ok ok hai contato apposta si è fermato prima oh no Zude grazie comunque prego no non scuscio ma vaffanculo non con il cazzo e va un gioco ancora due passi? merda sai che sono in zona missile dai sburgo è il tuo momento magari fai quello fai del content dai non c'è nessun content da fare dio bono ma vaffanculo bella lì I guess eh ah no ah ho fatto proprio il giro del giro se uno di qua va bene no si sono chiavi è giusto ah invece ho contato male non due sembra che io stia facendo tipo il support di Axel su logico infatti gli sto proprio sono una flebo di chiavi che mi sta facciando la sua zerga picchi Axel allora devo pensarci no 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 non usare quello Axel lo puoi uccidere con la palla lo puoi uccidere con la palla demolitrice se vuoi ma ho la palla demolitroia hai una palla ah una palla ah una palla disse guardandosi tra i pappaloni esatto spallalo però aspetta fammi vedere chi è messo è lui è messo meglio 63 chiavi no è solo per le chiavi non è personale stavolta sono solo affari eh no minchia c'è anche il raggio vabbè e mi arrivava nel culo quel raggio Axel dai shotgun oh un fucile ciao Totta Totta inizia turno farò un numero più alto di 5 no appunto no l'hai palesemente detto dopo aver tirato il dado un numero più alto di 5 brava ti sei curata io non ho chiavi oddio oh cazzo questo no ho dimenticato di toglierlo con il culo che ho sarò lo squalo io lo sono stato l'ultima volta quindi potrei riesserlo no chi è? ah è Totta l'hai detto? eh come faccio a mordere? con Q tipo? no chomp guarda come ha messo male quel trasmettitore c'è antisgamo zero proprio vabbè uno si dovrà suicidare per la causa ma io che cazzo ero? mi sono perso vabbè andato così vabbè per i è la miglior tattica non sapere chi sei per confondere lo squalo credo di essermi ritrovato ma non ne sono molto sicuro ok sì oddio è così difficile questa cosa fuck no 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 la mula questo minigioca è una merda ragazzi è veramente difficile è ben scappato incredibile vabbè io ho un minigame che non cerdo finalmente così Totta ne ho mangiati tre forte forte che forte uso oggetto non ho il raffo hai il regalo no ma il regalo è cioè aia vanno a Axel? ah no a Zergant a me a me a me ok ok per fortuna c'è niente oh dai finalmente un po' di soddisfazione minta quanti sei tram va bene ha sempre presi di più ne ho presi esatto ne ho presi più di quelle perse e ci va bene Totta linea non importa quante volte cade importa quante volte ti rialzi dimmi oh 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 come è stato il tuo moderatore a cui mi sono tanto affezionato ah sempre così va sì ah in forma penso sì sì non viene mai in live come tutti i nostri modi in realtà quindi vuol dire che sta toccando l'erba eh? dico che quindi vuol dire che sta toccando l'erba quindi tecnicamente va bene ah sì sì paradossalmente se uno non viene mai in live vuol dire che forse sta vivendo infatti per questo dico penso bene penso bene ok ok va va la madre di lacrime allora eh sono costretto fare cosa? eh vabbè niente arrivano dei tuoni però sì tecnicamente eh per forza ma non viene neanche le chiavi perché questa cattiva non viene neanche le chiavi per aprirle no però tu sì e sei sicuro e sei parivenito con me non si vince con i chiacchi non si vince con i trofei zerga è la quinta volta lo portiamo no io è la seconda ma adesso per fare si vince con i trofei si vince con i trofei non si vince con i trofei più kill più minigiochi questa campagna di disinformazione minigiochi persi più e non farlo targettizzare no è vero che poi alla fine danno anche gli altri primi scatto scivoloso questo ero forte però mi sa che non lo sono più ero forte ero forte così impari a svapare fallito questa musichetta però è improponibile te l'ho tolta la musichetta però eh cosa non fai? oddio c'era la shortcut non lo sapevo la short fraps beh la shortcut non è servita no non la sapevo io la shortcut no non ci credo signori tutta la inta io l'ho intanto sei fan ti vincere qualcosa stai vincendo che cazzo fai che paura grazie no no c'è che curva meno a sto giro suca mamma mia quel millimetro quel millimetro non meritato nella mia visione è lo prima io sono lo sta indietro ah no ok bella asax grazie per l'applauso è che non è ancora arrivato non preoccupatevi con calma quando vuoi con calma ho fatto lasciare stiamo giocando a pummel party a pummelo partelo che è? com'è? qual era? wii games wii cosa? eh? che c'è? qualcuno ha detto ah sì questo gioco è come wii mario party con la violenza ah sì mario party si etta eh ragazzi è vero ho detto ero forte me la son goffata avete ragione no vabbè hai pronunciato io lo credo eri forte let's go oggi non è il mio game oggi non è il mio game ciao raga non è manco il mio di game mi sa che non è il game degli amichetti no è perché finiamo di essere amichetti rip amico mio mosse magna mosse magna si um quasi popi rip amico mio mosse magna ok com'è che si guarda la mappa con la r la r di mappa che bella canzone che mi è passata di sottofondo il pacco il momento popi no no il pacco il pacco il pacco è 50 e 50 wow che debole è questo il game wow che debole che debole oggi nascono i nemichetti esattamente esattamente no che significa godo 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 ha invertito il giro oh buono fermi guarda bene pacco no non ha senso non hai le chiavi ah è vero allora niente tiro il dado e basta un solido 6 eh un solido un zoom ma schifo non fa no oh questo si nooo i blocchi cioè raga se perdo questo vuol dire che veramente non devo più giocare ma vabbè onesto ma qual è la tipologia di gioco che ti sta più sul c***o non ho capito è un dio santo no vabbè io divento stupido è bella la musica però molto doom si è vero molto doom sono così arrabbiato con questo gioco no totta cazzo è caduto giù immediatamente the challenge no insieme vabbè 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 bene vince totta ha vinto zergus ma da tantissimo perché sei una donna ma siamo morti insieme è proprio per quello totta non c'è l'altra spiegazione mi sento ma guarda te che buco di culo dio caro mi sento due mi sa li ho li ho no avrei dovuto vincere questo merda di cosa oh ciao stai ascoltando i blink mica è blink ma tu ti rendi conto totta che io sono così vecchio che ho visto questa band rilasciare questo album e io l'ho comprato in musica set minchia no porco il primo album che ho comprato con i miei soldi è stato every love in carino ok ma merro quanti anni hai tu scusami quanti me ne dai vabbè non lo sai non lo so ho quasi 37 anni sono più vecchio io allora sei dell'87 sono dell'87 come a me come a me ho usato il ho usato il regalo per fare tipo sei metri ok io sono così incazzato con questo game oggi veramente non devo giocare attenzione merro rimonta arriva ha messo la freccia ma vaffanculo più che altro ho alzato il dito medio e vabbè mettere superali io non mi ricordavo i blink in cassetta mi ricordavo altri mi compravo gli 883 io da ragazzino vabbè vaffanculo andiamo a caso nooo ah no è totta vabbè dai ragazzi se volete io tanto non devo giocare facciamo un gioco me lo invento io uno in cui posso non perdere allora indovinate che canzone sto ascoltando vi do degli indizi ok partiamo dal titolo ok il titolo principale composto da due parole poi c'è un'altra parte tra parentesi che è composta da 4 oh non lo so il è attuale è una band è una canzone che potrei che potrei conoscere anche io la conoscete tutti vabbè lo scatto del nostro google e la band ha fatto un album dove in copertina c'era un cioè ha fatto un album per ogni membro della band diciamo per ogni gender ah ok no mi manca qua mi perdo allora secondo me allora sta parlando dei rammstein dici non credo le uniche persone tipo che hanno fatto che mi vengono in mente di questa cosa qua e il titolo potrebbe essere adesso che sto sono concentrato su questa roba non mi verrai mai in mente ma magari ma magari mi sto io fissando sulla cosa sbagliata ma non vediamo i colori sotto livello è un aborto di merda sempre a dare la colpa agli altri Axel dovresti oh cazzo anche qua che qua io è tolta in fondo ma perché prima ho preso più pallini è perché ho preso più tondini vabbè vabbè ma tu guarda il signore dio vabbè dai posso dire godo e dato che non voglio lasciare nulla al caso no posso dire che non sono i rammstein ok ok no non sono i gorillaz stavo per il primerigno vi posso dire che i numeri cioè i nomi di questi album sono numeri ah ok sono i green day allora corretto ok e la canzone ecco è una finita se vi interessa però il game c'è ancora quindi sono i green day ma quale quale raga dovete tirare il dado se lo dico delle parolacce scusami stavo bannando datemi un attimo stavo bannando eh stavo bannando oh puoi direttamente aprire non hai le chiavi no non ce l'ha ok scusate è merda è merda eh non ce la faccio eh ma non ho usato neanche l'oggetto scusate stavo bannando e allora niente vabbè pazienza dali ignorerò decido di ignorarlo perché sei superiore bravo è che c'ho regolarmente uno che entra a dirmi che devo morire e allora non ci arrivo non ci arrivo è rascato al bantatico onesto corretto ma si comunque era good riddance time of your life ah ok non la conosco anche io ma no per forza la conoscete ma che album era? Nimrod ah no io mi sono fermato a majority madonna io divento macco ma cazzo ma sul serio Axel ma veramente mi avete cambiato il giro che mancavano tipo tre caselle al forziere unironically yes ah quindi sono più vicino di nuovo? guerra di pozzo questa è tremenda pensavo di averla tolta schiacciare la letra no che stai a fare? no io questa non l'ho mai componi la parola saltando sopra la letra sono stata veramente demonetizzata demonetizzata è vero aspetta è la U guardate pure i pugni allora indovinate la canzone che sto ascoltando ora oh ripigliati come da ma mi è cambiata la parola in che senso? è il primo che la finisce poi la fa cambiare ah ok Bertra poi metterà di picchiare vabbè ragazzi però basta menare vabbè basta è una canzone molto famosa la gente di solito la canta con l'ukulele sono un world of the rainbow no oh Axel è rotto il cazzo James I love you come? I love you no non sono riuscita a fare neanche una lettera potete picchiare Axel perma a me picchia tutti mi picchiano la storia della mia vita a scuola a King no non dire così io non posso giocare letteralmente ma neanche io allora bravi voi basta oh no cioè nel senso sono fermo da un kumquat ma che parola è kumquat si stiamo assolutamente noi vabbè la canzone va dicendo fa parte di un album e in realtà di un cantante che ricorda molto le awans dai Zergantis che pa... ok scusami una volta sola ti ho preso madonna mia oh che cazzo di cancro no no scusate volevo dire tumore no scusate ma che cazzo ride gravissimo scusate ragazzi scusate scusate è andata così stavo in realtà guardando all'interno tipo di google tutta quanto una classifica da guinness dei premati di chi è che aveva delle malformazioni importanti quindi il più grande e quindi mi ha fatto esclamare questa cosa che era assolutamente decontestualizzato a quello che stavamo video adesso esatto ragazzi la canzone can't help falling in love with you di Elvis Presley porca troia oh ok con l'ukulele la si canta veramente minchia Axel che cavola che hai fatto bravo grazie Mariona ti voglio bene tutto bene Axel alla mia piuttosto che dare una chiave a Bertra ma che cosa c'entro io ah giusto ma che minchia io sono in svizzera con meno chiave degli altri più vita degli altri così mi stavi sul cazzo chi non canta Elvis con l'ukulele almeno tre volte al giorno io quella canzone non l'ho mai scusata con l'ukulele obiettivamente questa nuova canzone invece è partita che cazzo devo fare siamo fratelli fammi fare del content che non sia il nulla Berro fa le sue pacifist run di merda guarda veramente offensive vabbè oh ma non ti va bene proprio un cazzo però Bertra ti metto il ravanello nel culo ah sei stronzo non uso il coso ah sei debole non picchio nessuno ah fai la pacifist ma che redemption di merda hai avuto te Axel che mi hai ucciso nel primo istante di gioco io e Berro non io e te ma perché io cosa vuoi da me raga ma perché hai 48 chiavi due di vita ma ho un cazzo di trofeo e basta ma mi sembravi il bersaglio perfetto cioè poi magari ho sbagliato tu prega di non passarmi tra le griffe mi sono rotto il cazzo ti giuro magari ho sbagliato adesso se ho da ora in poi ogni singolo turno anche se questo mi farà perdere la partita se ho un oggetto lo uso contro di te ma non è vero prenditi sto cazzo di tesoro adesso ti devi stare attento dove cazzo cammini te lo giuro ma altrimenti ti stai arrabbiando su un game che prima non ti ho toccato sei un coglione se mi avessi usato addosso la palla avresti vinto pensa che stronzo che sei è vero io non ho la palla non ho la palla la melanzana la melanzana eh ma non ci ho pensato è per il con no che strano grazie ok crincia dei tonni dei tonni oh no vi attacco il ligma sono io oddio sun41 no sembrava still waiting per un attimo berro stammi vicino berro stammi vicino sì subito ma qualcuno è già andato nel nel valalalalala nel valalalalala bertha ci sta chiudendo bertha ci ha chiuso bertha mi ha chiuso più che più 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 mi ha chiuso vabbè non si può saltare vabbè non potevo fare niente credo no devi scegliere o me o axel è una scelta abbastanza facile ok ora io come faccio piango mi ha abbracciato no ecco no sei sopravvissuto mi sa infatti no no che pal la campanella lotta perché sei in un angolino da sola due allora allora io se parto di qua ovviamente non posso no ovviamente non posso prendere regalo 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 eh ma mi sa che regalo clascia là clascia là mi sa regalo si mi sa regalo me la sento oh 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 merda me la so sentita cazzo ha vinto non è vero ah si cazzo me la so sentita fortissima incredibile merda incredibile ragazzi ragazzi la gabola credo di aver di aver vinto due mini giochi nella mia vita e basta eh ma ho messo un sacco di robe di premi ma ci stai sono belle veloci ignoranti così spero ci sia il premi per chi ha perso più cosa almeno vinco qualcosa ne ho messi veramente tanti e sono tutti casuali quindi non so cosa ho messo vediamo vediamo chi aveva ottenuto di più Axel Axel Max mi sa che hai perso è vero probabilmente è io a questo punto ma come non è che va a vincere Axel mi sa di sì vabbè ormai mini giochi persi più totta sì sì grande grande tot un altro ero io a pari merito sì per farmi capire quanti cazzo ne ho persi capito ma di nuovo ma di nuovo ma io l'ho messo casuali ma non pensavo li rimettesse uguali poi ma io grazie vabbè è vero ha preso sette trofei quanti game vuoi vincere Axel sì ha preso tipo ma basta ma ancora ha vinto quattro Oscar di cui due tipo gli stessi ripetuti due volte ma che scusate quando vi passa fatemelo sapere ma fischi ok adesso rimetto a posto ste regole premi premi Pammel inventati più Axel hanno implementato una roba nuova a caso quanti ne vuoi vincere Axel sì il migliore il più forte il tedioso l'insidioso lo stregone di livello 8 che è arrivato all'atto 2 a livello 8 ma dai ma ti piace lo stregone veramente ti trovi bene ma mi sta preoccupando a parte Brogan in culo porco giù da discendenza dragonica fire serio a me non mi è piaciuto il primo giro che ho fatto io per qualche motivo sono sul podio e lo stesso per cui Axel riesce a scattare le darmi le regioni qui Totta alla fine a forza di piangere sei arrivata più alto di me io ragazzi disallustro sono stati precisissimi ma vai già vabbè oh cazzo poi c'è amori miei oh buone feste se no ci risentiamo Axel ciao ciao Axel stai bene ciao 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 quando vuoi ciao ragazzi ciao 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 quindi ora che si fa io ho la mia onesta opinione eccola la tua onesta mi ha rotto il cazzo questo gioco facinato cosa vuoi fare cosa vuoi giocare letteralmente se mi proponessi di no 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 allora facciamo facciamo che dai un'opinione costruttiva ah un'opinione costruttiva si facciamo tipo che dici una cosa tipo viable che potremmo fare adesso in 4 alle 10 di sera Lethal Company ok bizzarro non me l'aspettavo da te capisci pensa quanto cazzo odio questo gioco Gang Beast scusami Animal Party non ce l'ho però possiamo provarlo è gratis no non è gratis no no non è gratis no no party animals no party animals ce l'ho eh party animals ma mi avete chiesto gentilmente la mia opinione per poi sbattervene il cazzo a livelli estremi vuoi giocare a Little Company totta no l'ho detto perché non voglio fra ok allora andiamo a giocare a Fall Guys è letteralmente andata così eh ciao testa cioè l'hai detto come meme ma è letteralmente andata così due secondi fa no toto colpa mia perdonami dai no vi leggo vi leggo i giochi che ho e mi dite quali di questi apprezzate va buono Fishing Planet no Amster Playground è un bel gioco è un bel gioco è un bel gioco è un bel gioco League of Company Marbles on Stream bello però mi sa che non si può giocare in multiplayer eh no no e Pico Park però l'abbiamo giocato l'altra volta l'abbiamo finito l'altra volta fasmofobia finchia fasmofobia ma a sto punto meglio quello che hai detto tu all'inizio cos'è Little Company Little Company c'è un Little Company ce l'ho ancora installato c***o va bene aspetta ha moddato con le mod dell'altra volta oh cazzo Baron non le ha mi sa ma tanto sono in carattere che cazzo ci frega delle mod Baron non ha le mod eh ma non no il problema è che se Baron non ha le mod non ci fa andare in room assieme no no se siamo in quattro possiamo cioè il gioco è progettato per essere per quattro persone adesso proviamo ma perché noi abbiamo i file cambiati cioè non c'è più Little Company a noi c'è proprio More Company appare e non so non so cosa fare allora proviamo 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 una bella gioca e serata 2v2 io ci starei anche faccio un mega cagare Bertra mi hai rotto il cazzo era una cosa seria perché ridi cosa fa ridere di gioca e serata 2v2 qual è la parte divertente la vi io comunque ci starei a fare gioca e serata faccio un mega cagare in geografia io non ho mai fatto figo deve essere che io potrei dire Zimbabwe che è una cosa del Sud America invece non lo è ecco i nemichetti esatto ditemi voi io se no provo a invitarvi io vi giuro che sto aspettando il permesso di Tota per aprire Little Company non Geogaster perché ce li ho aperti entrambi perché ho paura di questa signora ragazzi sentite io non è che serve avere paura vi ho fatto vi ho dato un discreto quanti odio di proposte a questo punto scegliete voi però però sia Geogaster che Little Company li hai proposte tu quindi Kip cosa preferisci tra queste due io ormai ho aperto Little Company quindi per me è indifferente scegliete voi iniziate ad aprire Little Company se non va facciamo Geogaster ci sentiamo in due non serve che lo apriamo tutti basta che lo aprite Axe e Berro è Berro vabbè vabbè sto arrivando lo sto aprendo sì i nemichetti sono già nati comunque di brutto la costola insurrezionalista degli amichetti vabbè ma onestamente tipo io cioè se avessi lo stesso numero di ore di sonno che ha Totta penso che sta rimandando a fare in culo tutti e basta online oppure LAN cosa devo fare no Bertram mi ha invitato a giocare a Lethal Company gioca si è verificato un'ora durante l'avvio di questo gioco applicazione avviata eh sì mi sa che sono le mod oh grande Geogaster quindi figata mi piace no aspetta aspetta riprova riprova a reinvitarmi non penso andrà gioca ecco 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 non si sta aprendo nulla perfetto Geogaster grandi se no vi posso anche offrire come altra cosa Geogaster Geogaster c'è il gioco i vari giochini di Fortnite ce ne sono tanti allora io non l'ho installato ma ho una connessione abbastanza veloce da farlo così non hai una connessione abbastanza veloce sono 60 gigafra mamma mia ci metto 10 minuti no no è il coso di Epic che fa anche cagare ah ok e io ho la fantagiga non so ah vabbè però se vuoi me lo tipo installo per la prossima volta lo so riesci a fare tu la lobby Tot domanda Geogaster quindi si Geogaster è con il browser dobbiamo farlo non è un app ti passerai il link Tot eh perché non l'ho mai fatto tranquillo vado a prendere della quetta io è il browser e funziona che saremo 2v2 facciamo la squadra in base a come preferite e poi le possiamo cambiare con calma e ci spostiamo in due canali diversi in modo che tra di noi possiamo parlare e alla fine di ogni round sono più round oppure alla fine di tutto il game possiamo riunirci e parlare anche questo in base a come scegliamo ok 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 chi è che ha il ok no c'era un'interferenza tipo cellulare tipo anni 90 esatto e ok comunque sono ho loggato dentro cosa quindi però f11 direi per metterla tutto schermo qualcosa di genere ah devo fare login oh my god aspetta beh fai con google sti cazzi si 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 no ma devo togliere la schermata eccoci qua e ok io mi chiamo berrofronzo anche dentro geoguess credo anche perché proprio sono cioè con il coso di google eh no io c'è il nome e cognome aspetta un attimo forse così riccardo bertrando eccoci qua aggiungi subito si si possiamo fare le bet non so se c'è qualche mod in chat ragazzi settings music volume linguaggio posso mettere in italiano come faccio a cambiare il mio nome ah ecco modifica ok ok aggiorna immaginina grazie mille Esme scusatemi giusto il tempo di impostarlo io arrivo immediatamente aspetta le ho messe io nel mentre vi mando il link nel gruppo di amugus grazie non mi ricordo dove ho messo ora lo metto mi metto sono sparite tipo delle foto ah eccole qua che non le trovavo ok ok dovrei dove l'hai mandato Tota dove l'hai mandato il link nel gruppo di Ammugus ah aspetta devo aprire Whatsapp Whatsapp eccomi sono tornatuto cosa devo fare aprire il link il link che avete immagino passato in in Ammugus ok ce l'ho di qua a posto ce l'abbiamo fatta che bello il tuo personaggio fungo Tota posso dire sono affezionata devo essere onesta ha un bel mood è un bel po' buono non ho mai giocato a GeoGuess ho sempre visto giocarlo ma non l'ho mai provato molto carino come gioco mi piace tanto ma come ci vogliamo dividere in squadra abbiamo un'oretta quindi ci possiamo fare anche più accoppiate perdonami io allora tu hai detto che hai mandato le cose su Ammugus ma io non ho idea di che cosa tu ti dicevi il gruppo di Whatsapp ah figa brutto perdonami qui devo aprire anche qui devo aprire praticamente Whatsapp web da web poi te lo mando qua su Discord si tesoro ti prego perché sennò non funziona te l'ho mandato grazie sei molto giusto quando vogliamo ok allora io sono penso pronto e quindi devo fare aspettiamo che il nostro inizi gioco mi devo fare F11 e devo cambiare la schermata in perfetto ok ci sono ora dobbiamo aspettare Carlotta ma sei bellissima cosa cazzo è quel fungo ti piace mi ci sono molto attenzionata mi piace tanto cosa facciamo gli amichetti contro me Berro va bene poi ci dividiamo ok ci spostate voi dove andiamo sì sì allora come preferite fare perché praticamente ogni game sono tipo 5 round se non sbaglio ok e vogliamo risentirci alla fine di ogni round o solo alla fine di tutto il game aspetta vi spiego cosa succede se tu non hai mai giocato da Mongas no che alla fine del per la Geoghesser ah sì buonanotte scusatemi allora praticamente ogni round in cosa consiste che verremo tutti teleportati in una parte del del mondo randomica e avremo 4 minuti di tempo per capire dove ci troviamo muovendoci nella mappa eccetera e poi dobbiamo andare a pinnare il posto dove pensiamo di essere sulla mappa e confermare è importante perché se non confermi sono tutto attacchi al cazzo ok e quindi questa la prima cosa alla fine del round ovviamente quindi scaduti 4 minuti o quando entrambi hanno indovinato se succede prima dello scadere dei 4 minuti esce una schermata riassuntiva che fa vedere tutta la mappa fa vedere il luogo dove era veramente e fa vedere la distanza che abbiamo messo noi quindi quanto lontani o quanto vicini siamo stati in base al posto e questo ci darà un punteggio fino ad un massimo di 5000 punti che si andranno poi a sommare in tutti e 5 round e questo sarà il riassunto alla fine di ogni round mentre poi alla fine di tutto il game c'è il riassunto dei punteggi di quanto ci abbiamo messo ad ogni round a indovinare e quanti punti abbiamo fatto ok ok chiaro chiaro quindi ditemi se possiamo muoverci girarci senza nessun problema sì senza nessun problema possiamo fare praticamente tutto quello che ci pare va bene allora no raga scusatemi sono stata stupidina ho stoppato la nutella nuova quindi sono pronta sono stata stupidina perché non ho notato una cosa ovvero che entrando tutti e 4 non è a squadre siamo 4v4 ah eh vabbè quindi se preferite fare a squadre basta che ognuno tipo ad esempio Bertra esce Zerga o Berro uno di voi due esce e vi condividete lo schermo su discord vedete voi se preferiamo fare una squadra tutti insieme ma facciamo tutti assieme free fall e dai vai madonna seppiglierò il fantacazzo sono pronto ok allora basta che ci mutiamo tutti su discord e così possiamo ragionare e dire le nostre cose in live va bene a dopo ok ok ciao Ciao.